25 poliziotti penitenziari accusati a vario titolo in concorso di tortura, abuso di autorità contro detenuti del carcere Pietro Cerulli di Trapani e falso ideologico sono stati raggiunti da misure cautelari e interdittive, 11 arresti domiciliari e 14 sospensioni dal pubblico ufficio, emessi decreti di perquisizione per un totale di 46 indagati. Le indagini sono partite nel 2021 dopo alcune denunce effettuate dai detenuti del penitenziario trapanese che avrebbero subito maltrattamenti in luoghi privi di telecamere, che una volta installata avrebbero registrato violenze arreterate da parte di agenti nei confronti dei detenuti. L'ordinanza del GIP di Trapani su richiesta della procura è stata eseguita dal nucleo investigativo regionale della Polizia Penitenziaria di Palermo con l'ausilio di alcuni reparti territoriali coordinati dal nucleo investigativo centrale. Sono ormai decine le indagini pressoché in tutta Italia a carico di appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria e centinaia gli agenti indagati, sospesi al servizio e talvolta condannati. Ovviamente chi sbaglia, dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA, Polizia Penitenziaria, deve essere individuato e perseguito, ma se a farlo anche solo in via presuntiva sono centinaia, diventa evidente la patogenicità del sistema, che non solo non protegge, ma evidentemente favorisce addirittura induce all'errore. Non si può parlare di mele marce, ma è la cesta marcia che fa imputridire tutto ciò che contiene. La crisi penitenziaria perdura da troppo tempo ed è ormai giunta al limite del baratro più totale. Non solo il sovraffollamento detentivo, sono oltre 15.000 detenuti oltre la capienza, le carenze organiche alla Polizia Penitenziaria, mancano più di 18.000 unità, ma anche le deficienze organizzative e negli equipaggiamenti, così come la sostanziale assenza di un vertice. Ci chiediamo se ci sia concretamente in tal caso di cosa si occupi il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale incidentalmente sarebbe anche il capo del Corpo di Polizia Penitenziaria. Urgono misure tangibili. Chi detiene le responsabilità politiche e amministrative, conclude De Fazio, intervenga tangibilmente, altrimenti si faccia da parte. In qualche caso siamo certi, operatori e detenuti neppure se ne accorgeranno.